Il 2020 è l'anno di Napoli, capitale della scherma. Sarà infatti il capologo campano ad ospitare al Palavesuvio di Via Argine dal 4 al 7 giugno i campionati italiani di scherma olimpici, paralimpici e non vedenti. L'evento presentato questa mattina in comune con l'assessore allo sport Ciro Borriello prevede anche una serie di iniziative che precedono la competizione nazionale ed è organizzato dall'associazione Milleculure presieduta da Diego Chiuzzi che con un gruppo di campioni come Patrizio Oliva rende fruibile lo sport anche per i giovani dei quartieri che hanno meno opportunità. Tutto questo anno culminerà a giugno nel 4-7 giugno col campionato italiano che sarà un campionato italiano diverso dagli altri perché cerchiamo di creare qualcosa di diverso come spesso si succede a Napoli, vorremmo fare un campionato italiano dove gli spalti devono essere assolutamente pieni, dove si potrà fare non solo scherma ma si potranno conoscere anche altre discipline sportive. È stata una felicissima intuizione dei nostri campioni locali Diego Chiuzzi che ha avuto una visione lunga nel proporre alla federazione la città di Napoli per il campionato per gli assoluti di scherma per cui è stata una felice intuizione ma anche perché ormai i nostri impianti sono idoni per poter ospitare manifestazioni del genere. È importante anche perché il movimento di scherma campano è napoletano molto forte per cui è importante che sia proprio a Napoli dopo una manifestazione così importante che sono state appunto le università. Ci sono tantissime iniziative che stiamo programmando per la stagione 2020-2021 per cui partiamo proprio con questa ma ci saranno anche altre iniziative di judo, di atletica leggera e di altro.